allora eccoci di nuovo qua ci troviamo sulla torre stratosfera di las vegas l'unica torre al mondo dove è possibile fare quello che nessun altro parte del mondo si vuole fare ci sono tre giochi che chi ha veramente coraggio qui lo dimostra quindi ok ok andrea ok ok vai fuori ok vai fuori vai dentro ok in pratica andrea è salita a bordo e si sta proprio e si sta proprio lanciando lanciando quindi io corro a vederlo come ho detto qua sono a 320 metri 320 metri e qui l'adrenalina è veramente una cosa allucinante corriamo siamo qua dentro come guardate da dove è che si va cos'è che si va a fare verrà catapultato nel vuoto fuori dalla torre all'altese 320 metri quindi qui o hai coraggio se non è meglio che stai rimane giù andrea è là davanti è là davanti catapultato catapultato fuori solo solo qua si può fare una cosa così ora ritorna indietro ritorna indietro per poi essere lanciato di nuovo di nuovo di nuovo fuori dalla torre ragazzi credetemi ci vuole una cosa coraggio allucinante 320 metri nel vuoto essere maltrattati così a 320 metri sopra las vega è una cosa allucinante è stato un grande a farcela questo glielo offerto io volentieri perché se ce la fai a lanciarti te l'offro io mamma mia una cosa una cosa il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info anche quello lanciati sopra per 100 metri non è male però essere buttati fuori a penzoloni è una cosa veramente qua nel deserto del Nevada, Las Vegas l'unico posto al mondo dove si può fare una cosa così per la fantasia sopra una torre com'è andata? me la sono fatta sotto grande mi si dà il cuore in cuore allucinante è finita la vita maltrattato grande grande c'è un grande grande mamma mia ma questo una volta fatto l'altro si ok solo una corsa veramente poi c'è questo qui a penzoloni ma insomma quella a penzoloni non fa niente il gioco il gioco è solo questo come ti ripeto come vi ripeto amici di youtube Stratosphere Tower l'unica torre al mondo dove si può essere catapultati fuori nel vuoto a 320 metri di altezza da qui si domina tutta Las Vegas di Cesar Palace Las Vegas Bolivar eccola qua salutone sempre da qua Stratosphere Tower, Las Vegas, Nevada, alla prossima